Leon Steel, assieme a noi utenti del forum, ci ha permesso la realizzazione di un modello che loro avevano già in produzione per un'altra azienda, di un coltello dalle caratteristiche abbastanza particolari. Intanto noi abbiamo avuto la possibilità di scegliere il tipo di acciaio per la lama e abbiamo scelto un D2. Il coltello si presenta in maniera formidabile, c'è un bel pacchetto come vedete in cartone, il coltello poi ha delle guancette in micarta lavorata, molto belle. Le finiture sono veramente eccellenti, questo sbalzo posteriore dei liner è ottimo, veramente fa ben fatto. Il coltello è un grosso folder nato dalla collaborazione di Gianni della Leon con Mick Molletta dell'MCKF Forum. è un'apribile ad una mano, grosse dimensioni. Come vedete su un lato c'è il marchio del forum con il tipo di acciaio. La lama è molto spessa, c'è una leggera zigrenatura, proprio sopra la sicurezza, il blocco della sicurezza. In questa maniera il liner che blocca la lama non si può più spostare. Qui vedete il movimento. È un liner lock. I liner possono sembrare sottili all'inizio per un coltello così grande, però poi si nota che grazie al fermo è praticamente impossibile che la lama si possa richiudere sulla mano. Il coltello ha una bella forma, bella lama, ha un falso controfilo superiore. Si impugna in maniera veramente eccellente. Anche la presa inversa è abbastanza buona. coltello davvero fatto in maniera eccellente. MCKF-X, nominato da noi del forno.